Tutto pronto per la decima edizione del Giro dell'Alto Tirreno Cosentino, l'evento è in programma per domenica 24 luglio. Stiamo parlando della manifestazione cicloturistica organizzata dall'Associazione Sportiva e Turbolenti e da diverse amministrazioni del territorio. Ormai 10 anni di eventi per dare alla Riviera dei Cedri l'occasione per valorizzare il patrimonio in dote, bellezze naturalistiche ed enogastronomiche. Ma andiamo all'organizzazione vera e propria. Come sempre la partenza e l'arrivo sono fissate nella villa comunale di Grisoli a Scalo, che per la sua posizione centrale rispetto all'intero territorio coinvolto si conferma location ed eccezione per la manifestazione. Il percorso toccherà oltre al territorio di Grisoli a quello dei comuni di Santa Maria del Cedro, Orso Marso e Maiera. Una manifestazione cresciuta negli anni grazie alla partecipazione dei tanti che non hanno perso l'occasione di seguire l'affascinante tragitto che ricomprende il centro storico di Santa Maria del Cedro, la valle dell'Abbate Marco, i resti dell'antica città di Laos, il fiume Lao e l'abitato di Orso Marso, dove è prevista una prima sosta. Qui i partecipanti potranno degustare le prelibatezze del territorio. Poi ritorneranno a Grisolia con l'ascesa fino al centro storico di Maiera, nel quale è prevista la seconda sosta, sempre a base delle specialità culinarie autoctone. Come detto, l'arrivo è alla villa comunale di Grisolia, dove sarà offerto un pranzo finale a base di prodotti tipici locali.